Bentornati sul mio canale. Per chi non lo sapesse, mi occupo di fotografia e videomaking e oggi, come sempre, vi porterò sul teatro di uno dei miei ultimi servizi fotografici. Bene, prima di cominciare io ti chiedo subito di mettere un bel like a questo video e di iscriverti a questo canale in maniera tale da non perderti gli aggiornamenti che seguiranno. Ti faccio presente che se sei un fotografo o un videomaker alle prime armi, seguire i consigli di chi lavora in questo ambito da più tempo di te può risultare molto molto utile per prevenire problemi e andare a lavorare meglio spendendo di meno. Passiamo subito a vedere come si è svolto questo shooting. Innanzitutto vi dico qualcosa sul cliente. Si tratta sostanzialmente di un'autofficina, stiamo parlando di car detailing. Quindi sostanzialmente parliamo di metodi di pulizia dell'auto particolari che vanno un po' oltre quella che è la solita pulizia con gli spazzoloni. Stiamo parlando di procedimenti molto complessi che si applicano ovviamente a auto di un certo tipo. È evidente che non si va lì con una panda, si va lì con auto di un certo valore. Quindi dalla BMW, dalla Mercedes in su fino alla Ferrari, Lamborghini e che dir si voglia. Stiamo parlando di procedimenti che prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche anche complesse per andare a eliminare eventuali graffi dalla carrozzeria, andare a ripristinare quella che è la brillantezza delle plastiche all'interno che magari possono venire erose dagli elementi. Una serie di procedimenti che servono a dare nuova vita sia agli interni che agli esterni della nostra automobile. La richiesta principale del cliente è di avere un servizio fotografico per il restyling del sito web. Quindi queste foto serviranno volendo anche per i social, però la richiesta principale è quella di avere un servizio fotografico che serva per andare a realizzare il restyling del sito. Quindi parliamo di foto prevalentemente orizzontali perché dato che i siti web vengono ancora realizzati da desktop, quindi si lavora tramite computer, si ragiona ancora su un formato che è simile a quello che vedete voi in video adesso. È simile al 16 noni, è simile comunque al formato full hd che è quello che sta sulla maggior parte dei monitor. Sulla maggior parte perché poi abbiamo la parte mobile che viene sviluppata a parte, abbiamo tutta la parte tablet, abbiamo i monitor particolari, quindi magari i monitor cinema scope e tutta una serie di dispositivi differenti, però lo sviluppo vero e proprio si basa ancora sul formato full hd dei monitor, quindi comunque con quell'aspetto e con quella razio. Per questo motivo andiamo a realizzare prevalentemente foto in formato orizzontale landscape. Parliamo un attimo dello shooting vero e proprio. L'attrezzatura utilizzata per questo shooting era abbastanza disparata. Abbiamo la nostra Canon 7D con il macro 100 mm serie L di Canon, una lente meravigliosa che io adoro, lente che ha la stabilizzazione e quindi ci consente di realizzare diverse cose a mano libera. Non abbiamo utilizzato cavalletti durante questo shooting, è stato tutto realizzato a mano libera, anche perché abbiamo portato una serie di flash, quindi abbiamo i nostri stativi della Manfrotto con sui flash Godox SK400 versione 2. Se avete visto il mio video precedente durante il quale c'è anche stato un piccolo problemino con l'audio, cosa di cui mi scuso, ma come vedete ci sto lavorando e adesso non si ripete più, quindi starò più attento a curare anche questi aspetti perché se si sbaglia un solo passaggio c'è sempre qualcosa che parte. Durante l'ultimo video che è uscito vi ho parlato di un problema che ho avuto con le luci Godox durante questo shooting, un problema non grave, nel senso che si è risolto ed è andato tutto a posto nel migliore dei modi, lo shooting è stato portato al termine. Diciamo che è stato un problema che mi ha fatto sudare freddo e che sostanzialmente mi ha fatto perdere una buona mezz'ora, per fortuna si è risolto tutto con una risata generale e abbiamo proseguito con i lavori. Se siete curiosi di sapere qual è stato il disguido che ho avuto andatevi a vedere il link che vi lascio qui sopra o sotto, dov'è che sia, non ho idea di dove vi comparirà perché anche a seconda del device può essere differente, però ci sarà un link per andare a vedervi il video precedente. Dunque stiamo lavorando con la nostra Canon 7D con il 100 mm macro e con le luci Godox stiamo lavorando in modalità slave, quindi abbiamo lo speedlight montato sopra la camera e quindi il lampo dello speedlight fa scattare gli altri flash che sono collegati. Questi flash stanno funzionando con dei modificatori molto semplici, ombrello traslucido, quindi è un setup veramente molto semplice, setup da una luce per la maggior parte del tempo, ogni tanto setup da due luci. Come seconda camera abbiamo la 80D con il 17 55 mm f2.8, sempre di Canon, abbiamo queste due camere che sono due APS-C, quindi hanno esattamente lo stesso formato, più o meno lo stesso sensore, un file di uscita che è abbastanza simile, anche se la 7D è un po' più vecchia, la 80D ha un sensore nuovo, un processore un po' più nuovo, quindi lavora meglio, però la 7D comunque è una signora camera, quindi andiamo a ottenere più o meno la stessa cosa da entrambe le camere. Ho scelto di lavorare con APS-C perché in questo caso non facciamo foto di interni, non facciamo foto con dei grandangoli, ma andiamo piuttosto a lavorare su dei dettagli. Ora, a differenza di tutto quello che si può dire sul mondo full frame contro APS-C, quando si tratta di lavorare sui dettagli, io personalmente preferisco l'universo APS-C per due motivi, intanto perché il fattore di moltiplicazione mi restituisce un'immagine con una lunghezza focale che sembra più lunga, in realtà non è la lunghezza focale ma è l'angolo di campo che è diverso, però quest'angolo di campo diverso mi aiuta in questo caso, perché io sto facendo dei dettagli e quindi sostanzialmente a parità di distanza di messa a fuoco riesco a portarmi a casa una foto in cui riempio meglio il frame con quello che voglio riempire, laddove magari con una full frame avrei avuto invece il mio soggetto più piccolo all'interno del frame e avendo la stessa distanza di messa a fuoco che è dovuta alla lente avrei quindi dovuto croppare in post produzione, quindi il vantaggio di avere una full frame l'avrei completamente buttato dalla finestra, per questo motivo in certi contesti come questo preferisco lavorare con APS-C anche perché vantaggio del full frame sarebbe stato avere il sensore più grande e quindi avere una maggiore sensibilità alla luce, ma qui non mi serviva niente perché sto lavorando con luci flash e quindi ho il completo controllo sull'illuminazione, scelta ragionata, APS-C tutta la vita, anche perché comunque mi dà dei file che sono più leggeri rispetto alla 5D Mark IV magari, quindi assolutamente si lavora più in scioltezza. Ora lo shooting si articola su diverse fasi, io non sto neanche a dirvele tutte, vi dico solamente i tratti salienti, fondamentalmente si è trattato di fotografare dei procedimenti che andavano a essere simulati in parte e in parte invece realizzati per intero su delle automobili di prova che erano dentro nello showroom al momento della mia visita, quindi abbiamo lavorato in particolare su una Porsche e su un Audi. Al di là dei modelli che lascia un po' il tempo che trova, a livello fotografico quello che ci interessa è la tecnica che è stata utilizzata. Visto il tipo di trattamento che viene messo in atto sulle automobili, io ho dovuto prima di tutto prendere contatto con la realtà del cliente, quindi ho chiesto di vedere quali erano le operazioni che venivano svolte intorno a quest'automobile. La maggior parte dei procedimenti consistono nell'utilizzo di un macchinario che effettua un lavaggio a vapore, quindi si tratta di una macchina che sostanzialmente spruzza vapore sugli interni e con una serie di manipoli diversi, di bocchette diverse, va a fare una pulitura molto precisa e indolore dell'automobile, nel senso che un lavaggio a vapore spruzza un getto di vapore e va a pulire senza danneggiare niente. Successivamente per gli interni c'è una fase di asciugatura in maniera tale che il vapore non lasci giù il bagnato e quindi in pochissimo tempo si riesce a riportare un'automobile magari usurata, magari sporca, alla condizione quasi di un'auto nuova appena uscita dalla fabbrica. Al di là del procedimento che era ipnotico di per sé, io vi assicuro che guardare questi procedimenti è molto edificante perché si vede un'automobile magari sporca, magari usurata, che viene trattata fino a quando non vengono riportate fuori le condizioni quasi originarie del veicolo nuovo. Quindi a me personalmente io sono un fanatico del mint condition, a me piace vedere gli oggetti come sono quando escono dall'imballo. Parlo di tutta la mia strumentazione, quindi microfono, videocamera, io se riesco a mantenere la mia strumentazione come nuova anche dopo anni e di solito ci riesco, sono più contento, mi piace vedere che la mia roba sta bene e quindi vedere dei procedimenti che servono a ripristinare la condizione ottimale di strumentazione, anche non mia, è comunque una cosa che mi piace. Quindi è un lavoro che mi è piaciuto molto, al di là della collaborazione dello staff che è stata assolutamente fantastica, quindi quando si riesce a lavorare così è anche più piacevole per tutti, quando c'è il coinvolgimento da parte del cliente, si riesce a lavorare meglio, si porta a casa un risultato anche migliore. Tornando alla parte fotografica, trattandosi di procedimenti che coinvolgevano il vapore, il mio ragionamento è stato, ovviamente pensiamoci un attimo, se io ho una situazione dove c'è del vapore, è come essere in sala prove o in studio quando si lavora col fumo, quindi quando si lavora con del fumo e si mettono i flash il rischio è di avere la foto tutta sbiancata, perché il flash illumina uniformemente e quindi si rischia di avere un contesto dove diventa tutto bianco. Quindi difficoltà principale è stata la diffusione del vapore, quindi abbiamo messo la macchina del vapore al minimo, in maniera tale che quando cominciava a uscire il vapore io avessi il tempo di fare degli scatti con poco vapore, prima che si diffondesse dappertutto. Inoltre ho posizionato una delle luci flash dietro, in maniera tale da avere una retroilluminazione, l'ho posizionata con un ombrello traslucido in maniera tale che la luce arrivasse abbastanza diffusa, il risultato che spero di aver ottenuto è quello di avere un interno e un esterno sempre dell'automobile, quindi foto sia di interno che di esterno, abbastanza morbido, abbastanza ovattato dove questo vapore sia anche un po' protagonista, ovviamente viene riportato un po' fuori in post produzione, perché io qui vado a esporre assolutamente per gli highlights, non voglio esporre per le ombre perché altrimenti gli highlights del vapore verrebbero tutti bruciati e io qui preferisco il contrario, io preferisco avere un'automobile un po' scura, un po' quasi in secondo piano, perché voglio che sia il vapore protagonista, voglio che sia il bianco a venire fuori bene, ma non lo voglio bruciato, assolutamente non lo voglio bruciato, quindi cerco di esporre per gli highlights e in questa maniera riesco a recuperare un po' del bianco del vapore in post produzione, riesco a recuperare anche un pochino delle ombre, però non ho quel bianco soverchiante che mi soffoca tutta la foto, ovviamente man mano che il vapore esce e diventa sempre di più, la mia luce colpisce sempre più vapore e quindi diventa sempre più bianco, quindi ovviamente non in tutte le foto ci sono riuscito, man mano che si scatta si fanno una, due, tre, quattro, cinque foto, alla sesta si è riempito tutto di vapore e quindi a quel punto si dissipa il vapore con le mani, con l'ausilio di cose che abbiamo trovato, quindi cartelli, tappetini, abbiamo fatto aria in maniera tale da poter fare un secondo giro e poi un terzo e un quarto fino a quando non avevamo tutte le immagini che ci servivano, questo procedimento viene ripetuto per tutti i passaggi sostanzialmente durante i quali è coinvolto il vapore, quindi interni, esterni, cerchioni, ovunque ci fosse questa macchina a vapore abbiamo ripetuto lo stesso procedimento riposizionando le luci di volta in volta, ora devo dire che è stato veramente molto bello lavorare con le luci, questa è una delle prime volte che ho modo di lavorare su uno shooting dove per ogni scatto si posizionano le luci in maniera diversa e si studiano gli scatti ad hoc per ogni nuova posa, voi direte ma questa cosa dovrebbe essere scontata, come mai è la prima volta, come mai sei così sorpreso? Ebbene vi devo dire che nel mio lavoro spesso viene privilegiata la velocità rispetto alla qualità, nel senso che spesso e volentieri il mio cliente ma anche il vostro cliente se siete dei fotografi e state guardando questo video, perché se siete dei fotografi top di gamma non state guardando questo video, quindi se lo state guardando vale anche per voi, i vostri clienti, i nostri clienti spesso preferiscono avere le cose fatte in fretta piuttosto che avere le cose fatte bene e quindi io conscio di questo fatto, conscio che il mio cliente tipo di solito non mi paga per avere un lavoro top ma mi paga solo per avere un lavoro, perché per il mio cliente tipo è sufficiente avere qualche foto fatta bene della sua attività, non vuole avere delle foto stellari, vuole solo avere delle foto. Per quanto a me possa dispiacere questa cosa, perché io vorrei fare un lavoro top di gamma sempre, ma non c'è sempre il tempo, nel senso che il cliente spesso è lui il primo a dirti guarda non facciamo tanto casino, vieni fai pum 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 e poi tutti a casa, perché il cliente non ha voglia di perdere la giornata dietro al fotografo che deve realizzare tutte le cose. Quindi questa è la triste realtà che ci si trova a affronteggiare quasi quotidianamente, però ci sono delle eccezioni. Qui stiamo parlando di automotive, stiamo parlando di macchine anche di lusso e quindi qui la qualità entra un pochino più in gioco. Qui sì che bisogna privilegiare uno shooting fatto bene e quindi questa volta sono io il primo a dire, questa volta ci mettiamo lì di impegno e ogni posa la studiamo a tavolino, ogni posa la facciamo in un determinato modo. Quindi ci si sposta dagli interni agli esterni e viceversa, si spostano le luci, si fa tutto il giro, si mettono i cavalletti, si rimette l'altezza, si rimette la direzione delle luci per avere sempre tutto calcolato al millesimo per ogni scatto. Questa è una cosa di cui sono molto contento, perché quando riesco a realizzare uno shooting mirato in questa maniera torno a casa e sono più contento. Non abbiamo scattato solo con luci flash, ma abbiamo scattato anche con una lucetta portatile, che in questo caso era una luce Godox TL30, quindi una tube light di cui se vi interessa farò la recensione a breve, perché è una luce che a me è piaciuta molto, io ne ho prese due, le uso molto spesso, sono molto molto contento, quindi ho già in programma di fare una recensione. Lasciatemi un commento se vi interessa, così vedo se privilegiare questo tipo di contenuto rispetto ad altri e farlo prima rispetto ad altre cose che ho in programmazione. Commenti qui sotto. In particolare per realizzare delle riprese video oltre che foto abbiamo utilizzato questa luce e l'abbiamo messa in modalità rosso, perché i colori sociali del cliente sono rosso e nero, quindi la luce nera ovviamente è un ossimoro, per cui abbiamo utilizzato una luce rossa per colorare il vapore di rosso in certe riprese, in maniera tale che durante queste riprese venisse fuori il colore sociale del cliente, quindi abbiamo il colore scuro degli interni dell'automobile e abbiamo il rosso che sta a simboleggiare i due colori del nostro cliente. Quindi questo è stato un secondo passaggio. Ultimo passaggio di questo shooting è stata la parte dedicata ai prodotti, perché questo cliente ha una linea di prodotti, che quindi sono prodotti chimici, solventi, sostanzialmente tutta una serie di spruzzini con delle sostanze che vanno a essere applicate sopra le superfici dell'automobile, quindi ce n'è uno per i vetri, ce n'è uno per i cerchioni, ce n'è uno per le parti in metallo, una per le parti in plastica, insomma tantissimi prodotti diversi. Abbiamo realizzato diversi scatti con questi prodotti in azione, quindi sostanzialmente con lo spruzzino nel momento dello spruzzo proprio, quindi con il getto che esce. Questo è stato fatto in parte sempre con l'ausilio del flash, in parte con la luce naturale, perché questo hangar industriale all'interno del quale era situata l'officina aveva un tetto che era fondamentalmente un lucernario, quindi la luce del giorno entrava molto copiosa e quindi avevo molto agio per scattare anche in maniera molto rapida, con dei tempi di scatto molto rapidi, quindi per fare gli interni, per fare il vapore, ho preferito utilizzare i flash per illuminare esattamente come volevo io, ma certi scatti sono stati realizzati anche con la luce naturale. Ovviamente laddove c'è stato l'ausilio del flash le foto sono un pochino più pettinate, però ce ne sono alcune invece che sono state scattate semplicemente con la luce naturale che sono comunque valide e sono un po' più vicine a quella che è la realtà dell'officina del cliente, perché ovviamente una luce flash ti cambia tutta la percezione dell'ambiente. Quando stiamo scattando con luci flash quello che succede è che nel momento in cui io illumino la mia scena, ho la mia scena illuminata correttamente e lo sfondo che ha una caduta di luce molto profonda, perché lo sfondo è lontano, per cui abbiamo lo sfondo che diventa scuro, quasi nero, mentre in realtà nell'officina è illuminato tutto a giorno. Abbiamo quindi il soggetto che viene fuori e questa era una cosa che io volevo, quindi è evoluta la cosa. Diciamo che negli scatti realizzati con luce naturale questo effetto si perde ed è esattamente il contrario, nel senso che abbiamo un'illuminazione un po' più diffusa. Sono state proposte entrambe le soluzioni in maniera tale che dopo ci sia anche una certa scelta, sono secondo me entrambe valide. Ovviamente quelle scattate con flash sono più pettinate, quelle scattate con luce naturale sono un pochino più terra terra, quindi non meno professionali ma sicuramente meno patinate. Sono due alternative che secondo me sono parimenti valide ed è sempre bello offrire un'alternativa al cliente in maniera tale che possa anche fare delle scelte ragionate vedendosele poi belle grandi a monitor. Parlando delle difficoltà io vi linko di nuovo al video perché ne ho già parlato approfonditamente di una delle difficoltà in particolare riscontrate durante questo shooting. Vi accenno solamente, le luci flash hanno avuto un grosso problema perché trattandosi di un lucernario, quindi entrava molta luce da sopra e per via del fatto che io stavo scattando in modalità slave, a un certo punto la luce che penetrava da questo lucernario era così alta, così forte, che addirittura mandava in saturazione il ricettore, la fotocellula dei flash godox e quindi non arrivava il segnale del lampo dal mio speedlight. Quindi abbiamo avuto un po' di problemi, se volete sapere come abbiamo risolto andatevi a vedere il video che vi linko. Altri problemi sono stati sostanzialmente di posizionamento, nel senso che la problematica più grande diciamo è stata capire l'operatore dove si posizionava e che tipo di movimenti faceva per compiere le sue operazioni di routine. Una volta capito questo io non ho fatto altro che posizionare i miei stativi con le mie luci flash, posizionare i modificatori e poi andare a creare l'esposizione giusta con un paio di scatti di prova. Lì non si riesce a lavorare secondo me tanto di esposimetro, tant'è che io non l'ho nemmeno usato l'esposimetro, però lì bisogna andare un po' a naso e a naso dopo un po' io conosco bene la mia strumentazione, quindi la becco subito l'esposizione corretta, bisogna anche calcolare che si fa l'esposizione a scena ferma, dopodiché la scena verrà inondata di vapore, quindi è molto bene sottoesporre un pochino perché quando esce il vapore il vapore sarà molto più chiaro della scena che stiamo vedendo e verrà colpito dalla luce prima degli interni dell'automobile, quindi è importante sottoesporre in maniera tale che quando esce il vapore il vapore sia giusto rispetto alla scena che stiamo vedendo quando facciamo gli scatti di prova. Questa sicuramente è stata una difficoltà, non ho avuto grossi problemi di messa a fuoco perché le scene erano non statiche perché comunque c'era del movimento, però le abbiamo fatte molto posate le cose, diciamo che l'operatore si muoveva lentamente apposta per darmi modo di mettere a fuoco esattamente dove volevo, inoltre trattandosi di luci flash stavamo scattando sostanzialmente a f8, tra f7 e f9, una cosa del genere, quindi non c'è stato problema di messa a fuoco perché un'ampia porzione della fotografia era a fuoco, la profondità di campo era sufficiente da tenere abbastanza a fuoco, non dico tutto, ci sono anche delle foto con un po' di sfocato per via del fatto che stavamo comunque usando delle lenti abbastanza lunghe, però non c'è stato problema di messa a fuoco nel senso che le camere se la cavavano bene. In questo senso devo dire che il 100 mm macro se utilizzato con il selettore di messa a fuoco su full dà diversi problemi di messa a fuoco nel senso che diventa una lente lentissima e fa molta fatica a focheggiare, ma se il selettore di messa a fuoco viene come dovrebbe essere posizionato a metà, quindi gli si dà un range di messa a fuoco che esclude la macro, perché è quello che lo fa rallentare, il fatto che lui va a cercare il fuoco anche da molto vicino, ma se si esclude la macro diventa una lente assolutamente confortevole con cui scattare anche ritratto o dettagli che non siano prettamente macro, quindi è una lente assolutamente da non sottovalutare ma bisogna saperla usare, perché bisogna conoscere questo step che ci permette di farla funzionare in maniera molto rapida, oltretutto il fatto di averla messa sulla 7D io apposta la metto sulla 7D, molti mi hanno detto ma è un controsenso, la 7D ha una messa a fuoco molto rapida e tu gli metti su una lente che è molto lenta come quella, invece no, perché intanto se uso il selettore in questa maniera non è più così lenta e poi proprio per quello io la uso in questo modo, perché una camera veloce come la 7D mi fa performare bene una lente che altrimenti sarebbe molto lenta. Io ho provato a usarla su un altro sensore APS-C che era il mio muletto, quindi era una Canon 600D, era molto molto lenta la messa a fuoco, è molto problematica, invece sulla 7D col selettore a metà funziona bene ed è anche molto precisa, quindi è un obiettivo assolutamente da non sottovalutare non dico che sia un tuttofare perché non è vero, su APS-C è un 160 mm quindi è lungo però ci si fanno dei signori dettagli, dei signori ritratti, quindi è una lente veramente da non sottovalutare. Parlando un attimino di post-produzione non c'è granché da segnalare, nel senso che in fase di post-produzione io applico i miei preset in Lightroom o Camera Raw a seconda di quello che decido di utilizzare, magari sto un pochino attento ai contrasti, nel senso che cerco di portare l'esposizione al livello giusto, perché non è sempre a livello giusto in tutte le foto perché c'è il vapore che si muove spesso e volentieri, quindi io cerco di mitigare le alte luci, di domarle un pochino e di recuperare un pochino di ombre che ho esposto per le luci, quindi le ombre sono magari un po' scure, quindi recupero un pochino sulle ombre e mitigo laddove possibile, laddove è necessario le alte luci, cerco di mantenere un'esposizione abbastanza bilanciata, magari do soltanto un pochino di clarity e un pochino di vibrance in più per dargli un po' più di mordente alle foto, fatto questo non c'è molto altro da aggiungere, ho scattato quasi sempre tra ISO 100 e ISO 400, quindi non c'è una grande riduzione del rumore da fare, fatto questo fondamentalmente le foto sono finite e pronte a essere consegnate, c'è soltanto da fare un minimo di selezione perché un paio di scatti sono venuti fuori fuoco, come capita sempre, ma niente di drammatico. Per quanto riguarda la consegna del materiale, ovviamente le immagini vengono impacchettate e spedite tramite protocollo FTP, in questo caso utilizziamo file mail perché le immagini sono tante, durante un'intera giornata abbiamo realizzato quasi mille scatti, quindi sono tanti, sono veramente abbastanza e quindi hanno un peso non indifferente per cui sarebbe stato necessario fare 3-4 wii transfer e diventa antipatico, a quel punto si usa file mail così con un paio di invii, fra l'altro file mail versione gratis ti dà 2 invii al giorno, quindi 2 invii da 5 giga, è tolto il dente e abbiamo mandato al cliente tutte le immagini, ovviamente in formato JPEG a 300 dpi che è il formato standard, in questo senso io mando sempre i JPEG, qualcuno per degli shooting un po' particolari dove è richiesta un po' di qualità in più ha cominciato magari a richiedermi i file in psd o tiff a 16 bit se devono essere lavorate, ma non è questo il caso perché in questo caso c'è un'agenzia terza che si occupa di realizzare la messa online del sito per cui avrà bisogno delle immagini pronte per il web, quindi in realtà la qualità che ho dato io, i 300 dpi sono perfino troppo per quello che serve al mio cliente. Parlando della foto preferita, bisogna toglierla questa domanda dalla scaletta perché tutte le volte io sono in difficoltà, non c'è una vera e propria foto preferita, però ve ne faccio vedere una in particolare che secondo me riassume bene quello che è stato fatto, io scelgo sempre o quasi sempre la foto più tecnica quando devo scegliere una foto preferita perché alla fine la foto tecnica è quella che mi ricorda dov'è che sono riuscito a dare il meglio e esprimermi di più. In questo caso un po' è tecnica, un po' è fortuna perché si tratta anche di come vengono certi movimenti. L'immagine che vi faccio vedere è questa. Andando a concludere vi posso dire che una cosa che ho imparato durante questo shooting è innanzitutto, non l'ho imparata, la sapevo già, ve la ripeto perché non fa mai male, una cosa che ho capito che era giusta e l'ho reimparata da zero è che non bisogna mai perdersi d'animo, quando c'è una difficoltà bisogna mettersi lì un attimino, ragionare a mente fredda, non perdere la calma, non disperarsi perché 90% delle volte una soluzione si trova. Infatti abbiamo avuto dei problemi ma la soluzione l'abbiamo trovata ed è stata una soluzione stupida, veramente banale. Io vi rilinco per la terza volta allo scorso video sui problemi avuti con i Flash Godox, Flash che continuo a utilizzare e che mi piacciono da matti quindi non è un problema per cui dico Godox non è valida, assolutamente. Ho semplicemente avuto un contrattempo dovuto a un'inesperienza anche perché non avevo mai scattato in un contesto del genere e mi sono reso conto che la mia strumentazione in quel contesto non aveva una performance ottimale. La prossima volta lo so e quindi agirò diversamente. Credo che non utilizzerò mai più i Flash in modalità slave se è per quello, a meno che non sia costretto perché questo mi ha fatto perdere un po' di tempo e mi ha anche fatto fare una bella sudata quindi d'ora in poi utilizzerò il trigger wireless sempre quando utilizzo delle luci Flash e consiglio anche a voi di fare altrettanto perché ne vale assolutamente la pena. Ora sul finire di questo video io voglio innanzitutto invitarvi nuovamente a iscrivervi a questo canale perché se ve l'ho chiesto all'inizio e non eravate convinti se avete visto il video fin qua a questo punto vi avrò convinto altrimenti ve ne sareste andati per cui il bottone è qui sotto, un click e passa la paura. In secondo luogo lasciate anche un like a questo video così aiutate questo canale a crescere e mi aiutate anche a mantenere gratis questi contenuti per tutti. Detto questo il video di oggi si conclude qui, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.